Morda la donna di 80 anni che era stata ricoverata dopo aver contratto la sindrome di West Nile senza aver viaggiato all'estero, timore dilagante per questo è stata disposta la disinfestazione nella zona. Il sitaco di Udine risponde alle tante critiche piovute addosso alla scelta di legare il patrocino alla partita Italia-Israele, ma si è anche detto pronto a fare un passo indietro, qualora dovresti cambiare alcune condizioni. Un 34enne pakistano ha prima cercato di gettare il suo massupio, poi ha tentato di darsi la fuga, ferendosi al viso e al braccio un agente di polizia. La guardia di finanza di Treviso e la procura di Udine interaccettano un milione di litri di alcol di contrabbando dall'est Europa e lavorato in fabbriche clandestine. Una 85enne di aiello del Friuli si è vista soffiare da sotto il naso una busta contenente monini in oro per circa 5.000 euro da due sedicenti tecnici idraulici. Lungo tutta la retta autostradale del Friuli Venezia Giulia si prevede traffico intenso nel fine settimana che porterà centinaia di migliaia di accessi e inevitabili code in corrispondenza dei caselli. Continuano i lavori della squadra di Costa Ruianic al fresco del ritiro austriaco domani alle 17 diretta su TV 12 alla Valtalena amichevole contro il Vosperberger. Bene ritrovati gentili amici e amiche alla visione d'ascolto per quanto riguarda l'informazione dal Friuli. Apriamo subito con la notizia perché è morta all'ospedale di Pordenone la donna di 80 anni residente a Villotta di Chions che aveva contratto il virus del West Nile. L'anziana non aveva effettuato viaggi per cui il caso è stato considerato autottono. Scatta comunque la disinfestazione per quanto riguarda la zona dove risiedeva la vittima. Allora in merito abbiamo sentito le parole del sindaco di Chions Laura Dorone. Purtroppo questa mattina la comunità di Chions si è risvegliata con una notizia che non avrebbe mai voluto sentire. La signora che si trovava ricoverata in ospedale a seguito della puntura di una zanzara vettore del virus West Nile non ce l'ha fatta. L'amministrazione comunale e la comunità tutta si stringe al dolore della famiglia. È però importante in questo momento ricordare a tutti i cittadini che siamo tutti parte attiva nel bloccare e eliminare tutte le fonti potenziali di ristagno di acqua e quindi di proliferazione delle zanzare. Sul sito del comune di Chions c'è un'ordinanza che era stata firmata ancora ad aprile, quindi diciamo prima della stagione estiva, che riassume un po' tutti i comportamenti virtuosi che tutti i cittadini devono condurre e da parte dell'amministrazione comunale sia nel periodo estivo che autunnale proseguono gli interventi realizzati ovviamente in conformità alle prescrizioni dell'azienda sanitaria per quanto riguarda le zone urbane. Speriamo che non ci siano altri casi per questa estate. Ripeto, in questo momento dobbiamo stare vicini alla famiglia, rispettarne il dolore, non dimenticando che la lotta contro questi insetti che sono vettori di questa malattia così devastante per anziani e persone debilitate è una lotta comune di tutti, quindi dobbiamo tutti unirci unendo le forze per cercare di sconfiggerla. E torniamo insomma al casus belli che da giorni sta imperversando, più del maltempo e del caldo torrido a Udine. Il sidaco De Toni risponde ancora alle tante polemiche post no al patrocinio in merito alla partita Italia-Israele. Ci deve essere anche un passo avanti delle comunità ebraiche, cioè noi dobbiamo renderci conto che dare un patrocinio come se nulla fosse, cioè che Israele e Palestina siano in pace, sarebbe stato onestamente poco onesto. Noi crediamo che il patrocinio non possa non essere accompagnato da azioni forti, tipo ad esempio una presa di posizione della comunità ebraica italiana che si dissociino ad esempio delle azioni criminali di guerra che l'ONU ha associato non solo a Damas ma anche ad Israele e ad esempio delle azioni finalizzate al dialogo alla pace. Altrimenti noi anziché costruire la pace continueremo a mantenere le condizioni per una guerra. Alberto Felice De Toni ne ha un po' per tutti e risponde alle tante critiche piovute da parte della politica sulla decisione di non concedere il patrocinio della gara Italia-Israele che si giocherà il prossimo 14 ottobre al Blue Energy Stadium di Udine, compresa la presidentessa delle comunità ebraiche italiane, chiarendo come i concetti di sport e politica siano intrecciati. Sostenere che lo sport e la politica sono separati secondo me è un'affermazione che trova il tempo che trova perché in realtà dal boicottaggio delle Olimpiadi ai tempi degli Stati Uniti e Russia fino agli ultimi giorni noi vediamo sempre che purtroppo sono intrecciate per cui far finta che non lo siano secondo me non è onesto sul piano intellettuale. Forte la presa di posizione della consigliera comunale Gatta che si è profondamente dissociata nonostante l'appartenenza proprio alla lista De Toni. Dentro una maggioranza grande ci sono idee diverse, ognuno si prende la propria responsabilità. Noi crediamo che lo sport e la politica siano intrecciati e come e il fatto che ad esempio la politica in questo caso del Comune di Udine non dia il patrocinio è come ha un impatto, come ha un impatto se lo dà, quindi far finta che non sia vero è onestamente contraddittorio. Si toglie anche un ultimo sassolino dalla scarpa, il Sindaco ribadendo come il Comune non fosse stato preventivamente coinvolto. Ma il Comune non è stato coinvolto per niente nell'organizzazione della partita, quindi noi abbiamo ricevuto soltanto una comunicazione di richieste di patrocinio, noi abbiamo chiesto di poter rimandare nel tempo in attesa di una situazione quantomeno di cessante il fuoco e di liberazione degli ostangi, così non è stato e quindi per il momento la decisione è questa. Se ci saranno dei cambiamenti siamo i primi a essere disponibili a rivedere la posizione. Parla invece ai nostri microfoni la comunità ebraica del Friuli Venezia Giulia. Salonichio dice del patrocinio negato una decisione che ci ha sorpreso e sconcertati e perfino pericolosa dal punto di vista della sicurezza. Mi sono sorpreso e sconcertato, mai mi sarei immaginato che dovessimo commentare questo tipo di notizia. Io immagino che una scelta di questo tipo sia stata presa senza aver valutato certe conseguenze che per noi sono significative. Non posso non immaginare che questo sia, come è stato definito anche nei giornali, un assi verso l'antisemitismo. Noi come comunità formuliamo le nostre vive proteste rispetto a questo tipo di scelta che troviamo ingiusta in un momento come quello sportivo che dovrebbe essere aggregante e un aiuto a creare solidarietà tra i popoli. Questo per me, ripeto, è stata una notizia che non mi aspettavo e che fra l'altro abbiamo anche condiviso centralmente con l'Unione delle Comunità e i rappresentanti dal Presidente proprio perché non eravamo quasi preparati a trovarci di fronte a una situazione di questo tipo. Su che cosa interpella una situazione di questo genere? Che pensieri vengono in mente? Lei ha detto prima che è un assist all'antisemitismo. Ma certo, stiamo cercando di gestire una situazione che obiettivamente è complicata per tutti. Trovarci in una situazione come questa la troviamo estremamente divisiva e pericolosa, anche dal punto di vista della sicurezza. E le polemiche sono continuate anche nella giornata odierna, tornando a Udine chiaramente, nel corso del dibattito che si è svolto durante la trasmissione. Friuli in diretta. Comunque, io penso sì che immaginaste che l'argomento sarebbe stato divisivo, ma che non ci sarebbe stata una sollevazione di questo tipo perché sennò credo che comunque forse avreste valutato in maniera diversa perché anche oggi ci sono dei silenzi, secondo me pesanti nella vostra giunta, che hanno il PD perché si è sentito solo il capogrupo Carinero, ma soprattutto io oggi vorrei sapere che cosa pensa l'assessore Venanzi ai grandi eventi. Non vi sembra che appunto la politica, tra l'altro una politica anche locale, una politica di basso livello, si è inserita con la Cisint, che si offrono… Si è inserita solo la Cisint ogni volta, so che a me naturalmente dicono sempre la Cisint. Ma prima della Cisint, insomma c'era il presidente Fedriga che è il presidente più amato di tutti in Italia, voglio dire, però è anche un abile comunicatore che inoltre ha… Che fa politica di basso livello, però abbiamo appena sentito. La regione che sappiamo, secondo me, non vorrei usare un termine forte, ma un po' di mobbing nei confronti dell'unico comune di centro-sinistra affibbiano senza dire niente la partita al comune di Udine sapendo che il comune di Udine si sarebbe trovato in difficoltà. Il comune di Pordenone ha detto che vi dà il patrocinio, che dà a lui il patrocinio. Tra l'altro, qui stiamo parlando di un patrocinio, cioè qual è l'effetto… È una questione totalmente, diciamo, formale. Non stiamo parlando… Se era una questione formale la potevate dare, su. Non è una questione formale, è una scelta politica, l'hai detto tu stessa prima, che comunque lo sport è politica, è una scelta politica. Dal punto di vista… Voi avete scelto di appoggiare una parte che forse mette a dei cittadini. No, non appoggiare una parte, appoggiare entrambe le parti, perché io per esempio non sono assolutamente pro-palestinese. Guido Gomirato nei nostri studi ha fatto una digressione storica sull'episodio di Rosenthal, legandosi agli ultimi fatti di attualità. Ronnie Rosenthal ricordiamo che nella stagione 88-89, anzi 89-90, doveva indossare la maglia dell'Udinese. Andiamo a sentire Gomirato. Avrei dato il patrocino, avrei dato il patrocino perché un conto è quello che succede, è un conto che viviamo in un momento particolare di guerra, guerra in Russia, in Ucraina, guerra striscia di Gaza, eccetera, eccetera. La pace è in pericolo, però lo sport di solito è l'antidoto a queste cose, a queste tragedie, per cui che colpa ne hanno i giocatori? Io capisco che non si dà il patrocino perché c'è il nome Israele, ma non esageriamo adesso. Io l'avrei dato, io l'avrei dato al di là e ti ripeto, non sto parlando da politico, sto parlando così, da persona che cerca nel limite del possibile di superare determinati scogli e determinate incomprensioni, anche perché c'è un precedente, perché dopo dicono che a Udine ce l'hanno con gli israeliani, il che non è vero, la famosa, nel caso Rosenthal, go Rosenthal, vai a casa, un'immagine del forno, eccetera, eccetera, cose brutte, cose del 1900, cos'era, 89, una bella mattina vicino a Via Cottonificio, vicino all'attuale università, erano apparse queste scritte da parte di sconosciuti e Udine non fece una bella figura. Io ricordo che allora la città, ovvero il sindaco, gli assessori, presidenti di varie aziende intervennero e difesero Rosenthal, difesero Israele, eccetera, eccetera, e allora era un centro-sinistra. Ma al di là del timbro politico, al di là di tutto, nello sport non bisogna mettere dei paletti, lo sport a volte salva, risolve problemi. La polizia ha fermato uno spacciatore pakistano di cocaina e un agente è stato ferito con un pugno al volto. Tenta la fuga, viene arrestato dopo aver ferito un agente. Questo quanto accaduto nella mattinata del 17 luglio a un cittadino pakistano 34enne che aveva con sé, per fini di spaccio, sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. Durante un mirato servizio di controllo del territorio, nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio e il consumo di stupefacenti, verso le ore 10 in via Butrio, gli agenti avevano notato questo cittadino straniero, già noto per reati specifici, che si stava allontanando a piedi in modo circospetto, tenendo in mano un marsupio. Lo stesso marsupio era stato subito lanciato molto lontano dal soggetto in questione, fermato prima di lanciarsi in un disperato tentativo di fuga, con tanto di forte pugno scagliato al volto di uno dei poliziotti, ne ha scaturita, ovviamente una collutazione intensa dopo la quale gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Nel marsupio, recuperato poco dopo, gli agenti hanno trovato una busta che conteneva all'interno quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 20,6 grammi, ma anche la somma di 270 euro in banconote di tagli differenti. Condotto in questura, lo straniero senza fissa dimora e fonti lecite di reddito o sostentamento è stato arrestato e condotto in carcere. Lo stupefacente e il denaro, probabilmente provento dell'illecita attività di spaccio, sono stati sequestrati. L'agente, colpito al volto e anche al braccio, è stato soccorso presso il locale nosocomio e refertato con otto giorni di prognosi per le lesioni riportate. Due finti tecnici idraulici hanno sottratto Monili a una 85enne di Aiello del Friuli per un valore complessivo di 5.000 euro. Ennesima truffa ai danni degli anziani, con vittima questa volta una donna di 85 anni di Aiello del Friuli. Nella mattinata di giovedì 18 luglio, la donna si è vista presentare alla porta della sua abitazione due sedicenti tecnici idraulici con tuta di lavoro e pettorina catarifrangente, neutra però senza alcuna scritta particolare che però sul momento non ha destato sospetti nella donna. Uno dei due si è intrattenuto con la malcapitata a parlare mentre l'altro spostava mobili alla ricerca, presunta di tubature da controllare. Dopo questa operazione lo stesso malvivente ha raccolto da dietro un mobile una busta con all'interno Monili in oro e l'ha riconsegnata alla signora. Busta che è stata trafugata però poi in un secondo momento approfittando di un momento di distrazione della vittima. Solo al termine di questo fittizio intervento idraulico l'85enne si è accorta di non avere più in casa i Monili in oro e allora sporto denuncia nel pomeriggio ai carabinieri della stazione locale con il mal tolto che è stato quantificato in un valore di circa 5 mila euro e le indagini che sono tuttora in corso. Arrestato dalla polizia del commissariato estivo di Lignano Sabbiadoro un italiano dopo un furto e moleste sessuali e danno di una ragazza straniera all'interno di un appartamento a Pinetta. La polizia del commissariato estivo di Lignano Sabbiadoro ha tratto in arresto un italiano di cui al momento non sono state rese note le sue generalità per il furto e palpeggiamento alle parti intime nei confronti di una turista straniera avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio all'interno di un appartamento a Pinetta. Il ladro approfittando della porta d'ingresso non chiusa a chiave si era introdotto all'interno sportando dispositivi elettronici e di valore. Non sazio ha rovistato anche nella camera da letto dove stavano dormendo due ragazze straniere. A una di queste ha pensato bene di palpeggiarle alle parti intime e dandosi alla fuga. La ragazza ha subito avvertato le forze dell'ordine fornendo una dettagliata descrizione del ladro aggressore. La pattuglia in servizio lo ha rintracciato nel giro di breve tempo. Per lui è scattato l'arresto e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'area furtiva è stata restituita alle legittime proprietarie. Disavventura invece per un giovane indiano nel torrente Palar. Numerose fratture per un tuffo finito male. Operazione complessa di soccorso alla fine andata a buon fine. A Trasagis tra le 17 e le 18 e 30 del 18 luglio si è svolta una missione di soccorso con attivazione della stazione di Udine del Soccorso Alpino ma anche dell'elisoccorso regionale. La chiamata alla Sores è arrivata precisamente dal rio Palar dove un giovane di 22 anni di origini indiane ha subito diverse fratture agli arti superiori e inferiori a causa di un tuffo dalla terza cascata finito evidentemente male. L'elisoccorso regionale ha dovuto calare l'equip di bordo con due verricellate da 40 metri. Prima il tecnico dell'elisoccorso con il medico in doppia e poi l'infermiere con la barella. Il giovane si trovava ancora in acqua sorretto da un'altra persona che gli teneva la testa fuori per permettergli di respirare e in acqua è stato posizionato sulla barella spinale per poi essere trasportato su questa fuori dall'acqua su muretto e stabilizzato. Tre le verricellate successive per imbarcare nuovamente tutti a bordo con l'aiuto di una speciale vera per evitare la rotazione della barella e ulteriori infortuni al ragazzo durante il recupero nella stretta forma. Il ferito è stato trasportato a Udine. La stessa stazione di Udine era pronta in base a dare supporto ma che per fortuna non è stato necessario e si è conclusa così nel migliore dei modi. Possiamo dire una missione molto difficile con il malcapitato che ha rischiato seriamente di perdere la vita per un tuffo di notevole difficoltà per avere un picco di adrenalina. E mentre andiamo in onda, notizia proprio fresca fresca, un violento nubifragio si sta abbattendo su Udine e l'Interland, segnalate forti piogge, poi temporali e soprattutto forte vento. Se avremo ulteriori novità nel corso di questa edizione del telegiornale ve la daremo. Torniamo invece e continuiamo al secondo scaletta. Non aveva con sé l'imbragatura per il cane ed è rimasto bloccato su un sentiero, salvato grazie alla luce della torcia nella vegetazione. Difficile intervento ha chiuso a forte questa notte tra le 22 e 30 del 18 luglio e l'una del 19 luglio, quando la stazione di cave del predil del soccorso alpino è stata attivata assieme alla guardia di finanza Sella Nevea sui piani del Montasio. Su segnalazione dei gestori del rifugio di Brazzà che avevano notato e osservato una luce nella zona sotto Forcavandul, luce che sembrava a momenti muoversi come una segnalazione, ma rimaneva ferma più o meno sempre alla stessa altitudine. I soccorritori si sono quindi mossi in direzione della stessa lungo il percorso attrezzato e hanno raggiunto un uomo di Messina di 34 anni che era rimasto bloccato con il suo cane mentre scendeva lungo la ferrata. Stando a quanto ha riferito il malcapitato ai soccorritori aveva dimenticato in auto l'imbrago per il cane ed era in difficoltà lungo la discesa pur non avendo chiesto aiuto ha ringraziato i soccorritori per essergli andati incontro e assieme a loro alla fine è riuscito a portare a compimento la discesa anche con il suo amico Peloso. Principio d'incendio nella notte in una casa per minori stranieri non accompagnati a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, non si esclude la pista del Dolo. Nel comune di Pozzuolo del Friuli precisamente nella frazione di Carpenedo verso l'una di notte di venerdì 19 luglio si è verificato un principio d'incendio in una casa di accoglienza dove sono ospitati dieci minori stranieri non accompagnati. Svegliati dal fumo che si propagava gli abitanti della casa hanno notato che si era sviluppato un piccolo rogo all'interno del locale Cucine, la quella chiamata ai vigili del fuoco della stazione di Udine che sono intervenuti prontamente per domare il principio d'incendio prima che potesse propagarsi in altri ambienti. Una volta messa in sicurezza la zona sono cominciati anche i primi accertamenti che non hanno escluso per ora alcune ipotesi, sia quella accidentale ma anche quella dolosa. Danni lievi, soprattutto nessun ferito, con i carabinieri della stazione di Mortegliano che sono intervenuti per fare tutti i rilievi e aprire le indagini sulle cause che hanno scatenato l'incendio nella casa d'accoglienza. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso con il coordinamento della Procura di Udine intercettato un milione di litri di alcol di contrabbando dall'est Europa e lavorato in fabbriche clandestine del sud Italia. Venti denunciati, un arresto, oltre 11 milioni di euro di accise e vase. La frode ha consentito alle persone sottoposte a indagini di evadere tra IVA e accise 11,5 milioni di euro. Abbiamo anche sequestrato 85 mila litri di alcol etilico, due auto articolati e tre fabbriche clandestine distribuite tra le province di Foggia, Napoli e Caserta. Venti persone denunciate e una arrestata per contrabbando di alcolici, ricettazione, contraffazione e irregolarità nella circolazione di sostanze alcoliche. È l'esito della vasta indagine della Guardia di Finanza di Treviso con il coordinamento della Procura di Udine, iniziata nel gennaio 2023, quando una pattuglia delle Fiamme Gialle aveva fermato al casello di Venezia Est un mezzo che trasportava illegalmente 26 mila litri di alcol etilico spacciato per liquido disinfettante. Alcol proveniente dall'est Europa, introdotto in Italia principalmente attraverso il valico di Tarbisio, fermo che ha prodotto un'indagine a cascata. Con ulteriori controlli su strade, grazie all'incrocio e l'analisi di dati, hanno permesso di individuare una rete di persone che contrabandava alcol destinati alla lavorazione in fabbriche clandestine nel sud Italia. Dove venivano realizzate le bevande alcoliche, su cui venivano apposti, è importante sottolinearlo, sigili di Stato contraffatti, ma anche etichette commerciali di aziende inconsapevoli. Le bevande alcoliche erano whisky, gin, vodka, liquori, limoncelli, altri distillati di uso comune presso bar, ristoranti, supermercati. Indagine che ha visto la collaborazione anche dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha contribuito ad attestare come nelle bevande alcoliche ci fossero sostanze, come per esempio il metanolo, rischiose per la salute. Un'operazione che ha richiesto oltre un anno di lavoro sul campo per le fiamme gialle. Questa indagine conferma l'importanza di essere presenti su strada nel controllo del territorio. Sarà un sabato 20 luglio da Bollino Rosso sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulio. Sarà un sabato caratterizzato da Bollino Rosso su alcune tratte della rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. Circa 179 mila i veicoli che transiteranno con code che potrebbero verificarsi non solo in prossimità del breve tratto di cantiere della Terza Cossia tra Porto Gruaro e Alvisopoli, ma anche in uscita dagli svincoli per le località balneari alla barriera di Trieste-Lisert. Proprio qui sono attesi in uscita circa 20.000 mezzi. Ne dà notizia la concessionaria che ricorda che, qualora si dovesse creare oltre 3 km di coda, sarà attivato il bypass sulla A34 Villesse-Gorizia. Attenzione anche allo svincolo di Latisana, dove nella sola giornata di sabato scorso si è avuto un innalzamento del traffico, più 18%, con oltre 20.000 transiti, rispetto allo stesso sabato di un anno fa. Il traffico sarà particolarmente intenso per quasi tutto l'arco della giornata, sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A57 tangenziale di Mesta in direzione Trieste. Il traffico calerà leggermente domenica 21 luglio, con 169.000 transiti previsti. La giornata sarà caratterizzata da bollino giallo, con traffico sostenuto nella mattinata sulla A23 Udine-Sud-Palmanova, in direzione del nodo di Palmanova, sulla A28 con negliano Porto Gruaro in direzione Porto Gruaro e sulla A4 con possibilità di ralentamenti in direzione Trieste che potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio, per effetto delle partenze dei pendolari al mare e dei vacanzieri diretti verso Slovenia e Croazia. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il maltempo, perché in corso dalle 19 un violento temporale con nubi fragili, vento forte nella zona di Udine e del suo Interland. Ci sono già i primi interventi da parte dei Vigili del Fuoco, in particolare per un downburst che si è abbattuto proprio nella zona di Campo Formido, dove rami e alberi sono caduti al suolo. In corso, come detto, gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco e dei volontari della protezione civile. Non si segnalano, per fortuna, al momento feriti. Chiaramente se avremo ulteriori news nel corso di questa edizione del telegiornale ve le daremo in tempo reale. Da prossima settimana invece verranno demoliti 500 metri cubi di roccia per il ripristino della strada di passo di Monte Croce Carnico entro fine anno. Ci sarà una nuova fase di interventi sul passo di Monte Croce Carnico sul fronte di Frana lungo la strada statale 52 bis Carnica, che porterà la prossima settimana alla demolizione di 500 metri cubi di roccia instabile. ANAS ha infatti programmato una nuova fase di interventi nell'ambito della sistemazione messa in sicurezza dell'ampio fronte di Frana lungo la statale 52 bis Carnica, in prossimità appunto del passo di Monte Croce Carnico a Paluzza, in provincia di Udine. Martedì 23 luglio sarà eseguita infatti la demolizione controllata di una porzione di circa 500 metri cubi di versante roccioso pericolante. Le operazioni saranno condotte con l'utilizzo di microcariche di esplosivo. La prima fase dei lavori è stata avviata a maggio e ha consentito, tramite l'impiego costante di circa 10 persone, tra personale tecnico e specializzato e maestranze, di realizzare le vie di accesso alla parte rocciosa oggetto degli interventi e il consolidamento con chiodi e funi della parte del versante adiacente della zona interessata dalla Frana. La demolizione delle porzioni di versante instabili sarà eseguita in più fasi. Successivamente sarà avviata l'installazione delle barriere paramassi, necessarie a consentire l'inizio dei lavori di ripristino della strada gravemente danneggiata dalla Frana, in condizioni di piena sicurezza, con l'obiettivo di riaprire il traffico, la statale 52 bis entro fine anno. L'intervento, si ricorda, è anche confianziato dalla Regione. Friuli Venezia Giulia. Le sfide del passato e del futuro per la distribuzione energetica con un occhio alla prevenzione delle truffe agli anziani. Un decennio fatto di tante complessità internazionali con le crisi che hanno anche aumentato a loro modo le opportunità per la distribuzione dell'energia, ma al contempo anche hanno messo sul tavolo tante nuove sfide da affrontare. È stato un decennio molto complesso. Noi l'abbiamo gestito mettendo a disposizione delle comunità le competenze che avevamo. L'abbiamo fatto per certi versi, fatto diventare anche un'opportunità alla crisi, perché abbiamo accelerato ad esempio tutti gli interventi di efficienza energetica per ridurre i consumi, perché la prima strategia è quella della riduzione dei consumi. Le competenze che abbiamo noi come gruppo sono quelle proprio di intervenire sia sulla copertura dei fabbricati per impedire la dispersione energetica, ma anche di avere impianti a grande efficienza per la produzione di energia. In questo territorio le principali priorità sono quelle della creazione delle condizioni di sicurezza del servizio, perché gli effetti di cambiamenti climatici sono molto sensibili anche in questo territorio, quindi noi stiamo creando le condizioni perché le nostre infrastrutture siano, come si dice, ridondate. I distributori di energia spesso sono sfruttati per il perpetrare di truffe, soprattutto agli anziani, e per questo è sempre giusto ribadire alcuni concetti chiave per le fasce più deboli. Noi da tempo, proprio sapendo che ci sono queste insidie, quando dobbiamo interagire con i clienti noi li avvertiamo, cioè i nostri operatori intanto si presentano sempre con delle mostrine in evidenza, con i loghi in bella evidenza. Se ci sono dei problemi di pronto intervento all'interno delle abitazioni, noi all'interno delle abitazioni non ci andiamo mai e operiamo sempre al di fuori delle abitazioni. Se dovessimo intervenire all'interno delle abitazioni, noi interveremmo con le forze dell'ordine, quindi i nostri operatori non vengono mai in casa. Il consiglio che possiamo dare è di non fare entrare nessuno che non sia abilitato e sul quale non ci sia la certezza. I presunti controlli degli impianti all'interno delle abitazioni non sono parte della prassi di nessuna azienda. Si studiano alternative per i prossimi tracciati della Sequals Gemona con quattro ipotesi sul tavolo. L'assessore regionale a infrastrutture e territorio Cristina Mirante ha esposto le motivazioni con cui l'Aggiunta regionale ha approvato una delibera che riassume l'iter finora svolto per giungere alla definizione del tracciato del collegamento stradale tra la strada regionale 464 a Sequals e la strada statale 13A4 a Gemona. Un iter iniziato nella scorsa legislatura con l'affidamento di uno studio di fattibilità che ha indagato quattre diverse alternative di tracciato ma che ora necessita per forza di un approfondimento e di una condivisione. Esatto, sì abbiamo concluso una fase di studio delle alternative progettuali che è partito dalla precedente legislatura per arrivare alla conclusione che lo studio ha dato una serie di spunti molto interessanti in natura tecnica, ha fatto in modo di avviare un dialogo con le comunità locali interessate e tutti gli stakeholder in particolare ovviamente il nostro mondo produttivo che si sono espressi a favore di questo intervento è chiaro che il tracciato avendo la necessità di estendersi su parti di territorio ancora non interessato nel nostro stradale di questo livello di importanza hanno espresso in alcuni casi delle volontà e in alcuni casi delle perplessità per cui abbiamo deciso come giunta di ulteriormente fare uno studio di approfondimento in particolare con quelle che sono le proposte che sono arrivate dai territori che da Dignano vanno a Gemona interessando anche San Daniele, Maiano e Osoppo e quindi andremo a come promesso insomma in comunità collinare a fare un approfondimento di studio e condividerlo chiaramente col territorio. E' iniziato ieri il ritiro austriaco dell'Udinese ed è già a tempo di primissimo bilancio dopo i primi giorni del regno di Costa Rujanic. L'Udinese è partita per Bad Klein-Kirchheim dove resterà fino all'ultimo giorno di luglio un periodo durante il quale giocherà anche quattro test amichevoli prima del rientro a Udine la sfida alla Lilal e poi il turno di Coppa Italia contro la vincente Travellino e Juve Stabia. Per il secondo anno consecutivo la squadra bianconera starà nella cornice carinziana all'Hotel Purwer praticamente tutto a disposizione del club friulano con le sue strutture all'avanguardia per il recupero dai duri allenamenti che verranno sostenuti nel campo poco lontano. Si andrà a ritmo di doppie sedute, meteo permettendo, e alternati da test amichevoli di spessore crescente. A temperature sicuramente più gradevoli di quelle di Udine, Tovenne e compagni lavoreranno per affinare l'intesa e prepararsi al meglio alla prossima stagione che partirà quindi a inizio agosto. Per ora, ben inteso, parliamo di calcio estivo, di luglio addirittura, per cui bisogna andarci cauti, si è vista una squadra diversa da quella che ha portato con estrema fatica in porto la barca per il trentesimo anno consecutivo di Serie A. Il modulo è chiaro, 3-4-2-1, molto offensivo, con tre attaccanti puri ma con licenza di venire dietro a cucire il gioco soprattutto per Brenner e per il francese Tovenne, per non lasciare Luca abbandonato al proprio destino. Ne ha beneficiato il bomber piemontese, per ora tre gol in due partite anche se con avversari morbidi. Hanno colpito finora le trame di gioco e un'udinese, questa, come annunciato da Gino Pozzo quando si commentava la scelta di Costa Junic, che alza la palla solo come ultima opzione, che cerca il gioco in verticale e le triangolazioni a liberare l'inserimento dei centrocampisti o degli esterni, tra i quali sta brillando Jordan Zemura. È emerso come serva un mediano che crea il gioco, un profilo diverso da Wallace per distaccarsi dal recente passato. Zarraga lo ha fatto ma con ritmi ancora blandi e Kina ha provato a disimpegnarsi come ha potuto, dando comunque discrete indicazioni. Ma è forse lì che il mercato si concentrerà con maggiore forza. La difesa per ora è rimandata, sia perché manca il terzetto presunto titolare, mercato permettendo, Christensen, Biol, Perez, ma anche perché gli avversari non hanno sollecitato il reparto. Però quello che si voleva vedere era una squadra che giocasse e che divertisse. Presto per dirlo, ma i segnali sono buoni per togliersi finalmente dopo anni di dosso l'etichetta di squadra fisica che ti fa giocare male, la fila strocca ripetuta da tutti gli allenatori e avversari senza distinguo ogni pre-gara. Ecco, ci si accontenterebbe di non sentirle più queste frasi e magari di vincere qualche partita più in casa. Due obiettivi non semplici, forse il secondo un po' di più, ma che Runic vuole ottenere lavorando duramente nel ritiro di Bad Klein-Kirchheim. E vi dicevamo proprio del maltempo che sta incombendo in questi minuti mentre stiamo andando in onda sulla zona di Udine e l'Interland. Sono le immagini che ci sono appena giunte. Ringrazio Emanuele Sergi che a tempo di record le ha buttate in onda. Ringraziamo anche gli amici di Meteo FWG Segnalazioni che, come sempre, sono pronti in presa diretta a raccontare quello che accade sul territorio. Vedete, queste sono immagini registrate pochi minuti fa e caricate appunto sul canale Telegram Meteo FWG della zona di Udine. Siamo tra Colugna, Plaino di Pagnacco e poi la zona di Cassacco e Tricesimo, dove è segnalata anche nella zona di Pagnacco un blackout di distribuzione dell'energia elettrica, ma sembra che la cosa stia tornando alla normalità. Dicevamo, questo violento nubifragio che si è verificato nel giro di pochi minuti, siamo passati da quasi 40 gradi a 20 gradi in meno di mezz'ora e con formazione di turbini veri e propri, violenti nubifragi, area forte che ha abbattuto chiaramente rami e alberi, stanno già operando anche i Vigili del Fuoco perché sono stati chiamati insieme alle squadre della Protezione Civile Comunale a intervenire per la rimozione, come detto, di alberi e rami che sono caduti sulla sede stradale. Si chiama in gergo tecnico un downburst, non è una tromba d'aria ma è un downburst, sono due cose ben diverse e distinte tra loro. Insomma, questa è la situazione proprio in presa diretta. Pochi minuti fa ci sono appena arrivati in questi video. Ringrazio ancora gli amici, ripeto, di Meteo FWG che cortesemente ci lasciano documentare in presa diretta quello che accade. Chiudiamo qui per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre, suggerimenti dei nostri amici silenziosi e poi il post IG. Grazie mille.